Il test del DNA ha salvato una vita dalla miseria più assoluta, ha ridato la libertà ad una persona accusata di un crimine terribile e ha ribaltato le sorti di un caso chiuso ormai da tempo. Ma nonostante tutto, la protagonista di questa storia ha ricevuto una condanna più grave dalla vita stessa. Ciao, belli d'ezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e fare un test del DNA. A proposito di questo, devo dare un attimo la parola all'Andrew del passato. Andrew? Qui è l'Andrew del passato, credo non abbiate mai visto la mia casa di giorno, comunque oggi ho una cosa molto importante da farvi vedere. Ho ricevuto un file fisico, come vedete, una cartella fisica. E già mi sento un investigatore privato perché qui dentro c'è il test del DNA. Apriamo il file e qui dentro troviamo questa scatolina bellissima di MyHeritage. Questo è un test del DNA che MyHeritage mi ha gentilmente inviato e per immergerci totalmente nella storia di oggi farò anch'io un test del DNA. Come vedrete più avanti nel video, il test del DNA è stato fondamentale per lo svolgimento della storia di oggi. Quindi grazie a MyHeritage ho deciso di farlo pure io. Andiamo subito ad aprirla. Mi sento davvero un investigatore, guardate che carina che è. Qua dentro ci sono tutte le istruzioni, è veramente un modo facilissimo per fare il test. È assolutamente indolore, adesso vedrete. E tra l'altro è uno dei test più economici che esistano. Ma non per questo si tratta di un test scadente, anzi hanno miliardi di documenti di milioni di persone in tutto il mondo. Ovviamente tutti i dati sono privati. E lo scopo di questo test è scoprire le mie origini, la mia etnia. Secondo me, io ve lo dico già, secondo me io sono spagnolo per qualche motivo. E anche un pochino cinese o giapponese. Non lo so perché ma ho questa impressione. E il test ce lo rivelerà. Ovviamente lo faccio con voi, vi farò vedere come si fa. È veramente semplicissimo e alla portata di tutti. Adesso la smetto di blatterare e apriamo la scatola. Come vedete abbiamo questa bustina bellissima in cui riporre poi appunto il test. È anche una lettera precompilata, quindi facilissimo da poi spedire a MyHeritage per fare il test vero e proprio. Questa cosa è fantastica, mi sento davvero un investigatore che sta per fare un test del DNA. Non penso che lo facciano gli investigatori. Comunque qua ci sono due provette. E qui ci sono anche due cotton fioc, non saprei come chiamarli. Sono uguali a quelli che vediamo nelle serie crime, come anche CSI. Quindi sono stragasato di farlo, non vedo l'ora. E ci sono tutte le istruzioni veramente facilissime ragazzi, alla portata di tutti, davvero. Allora dobbiamo prendere uno di questi e strofinarlo in una guancia per 30-60 secondi. Ok, ora come in laboratorio prendiamo la provetta che ha dentro un liquido strano. Inseriamo il test e spezziamo sto coso. Eccola qui. Poi stesso processo con l'altra guancia. Chiudiamo, anzi sigilliamo la bustina e poi semplicemente la riponiamo dentro la busta precompilata. Ora non dobbiamo fare altro che spedirla e aspettare i risultati, che arrivano in circa 3-4 settimane. Quindi corro a spedirla e noi ci vediamo una volta ricevuti i risultati. Ciao! Ok, sono passate 3 settimane e i risultati sono arrivati. Pronti? Ok, siamo sul sito, andiamo a vedere subito i risultati. Stima di etnia. Vi avevo detto che pensavo di essere cinese per qualche motivo e anche spagnolo. Vediamo se ci ho azzeccato. Ok, allora... Sono sardo al 56,2% di Cagliari e Nord Sardegna. Bello. Ha senso. Lo sono. Poi italiano al 35%, wow. Ti dà anche tutte le informazioni, che bello. Poi ovviamente ti trova anche le corrispondenze, che sarebbero le persone che hanno fatto il test e che hanno un corredo DNA simile al tuo. Per cui cugini di secondo grado, terzo grado, tutte queste cose qua. Sono irlandese, scozzese e gallese al 6,1%. Questo non l'avrei mai detto, raga. Bellissimo. E anche medio orientale al 2,6%. Sarja Desert Park Emirati Arabi Uniti. Non me l'aspettavo per niente. Devo dire che è super interessante. Cioè, non mi sarei mai aspettato di essere addirittura al 2,6% degli Emirati Arabi Uniti. Mai. E comunque è un sacco figo, perché praticamente più persone lo fanno, anche nella nostra famiglia, e più dettagliati sono i risultati. E più ci connette a vari familiari, magari lontani, che hanno fatto il test e vivono altrove. E però ce li trova. Infatti basta andare in corrispondenze. Qua censurerò per la privacy di queste persone. Comunque mi trova questa, che è cugina di terzo grado. Bellissimo. E niente, questo sono io. 56,2% sardo. 35% italiano. Mi fa ridere che faccia la distinzione. Come se fosse un posto totalmente diverso dall'Italia, la Sardegna, che vabbè, lo è. E mi ha trovato 497 corrispondenze, di persone col mio stesso DNA, in piccole parti anche. 496 parenti lontani. Potrei decidere di contattare qualcuno, perché tramite il sito puoi anche contattare queste persone che ti trova. Quindi, oltre a farti scoprire le tue origini, MyHeritage ti collega a parenti lontani, e ti mostra tutta una serie di informazioni sul tuo corredo genetico, che sono stra-interessanti. Mentre aspettavo i risultati, ho usato anche la funzione dell'albero genealogico, che praticamente ti aiuta a ricostruire la storia della tua famiglia. È bellissimo e più persone faranno il test, più dettagli verranno svelati. Si possono anche aggiungere le foto di parenti o vecchie foto di famiglia. E guardate, si possono addirittura colorare le foto in bianco e nero, animarle e migliorarle. Tutto ciò per dare nuova vita ai nostri antenati o parenti stretti. Ho amato questa funzione, quindi ve la consiglio davvero. Tutto quanto riguardo MyHeritage è super interessante, semplice e divertente. Quindi se anche tu vuoi scoprire di più su te stesso e sulle tue origini, vai su MyHeritage dal link in descrizione e ordina il tuo personalissimo kit dell'INA. Inserendo il codice ANDREW avrai anche la spedizione gratuita. E come bonus puoi iniziare la prova gratuita di 30 giorni del miglior abbonamento di MyHeritage per la ricerca genealogica. Se decidi poi di continuarlo avrai uno sconto del 50%. Consiglio davvero di provare MyHeritage perché tutto questo è stato interessantissimo. Grazie quindi a MyHeritage per questa bellissima collaborazione e grazie a voi per l'attenzione. Ora cominciamo davvero con il file di oggi. Una storia che tratta molto da vicino le analisi del DNA. È una vicenda abbastanza breve ma molto molto importante. E praticamente nessuno ne ha mai parlato. Quindi eccomi qui. È il caso di Lynn Dejac Peters. In giro ci sono davvero poche informazioni per cui non è stato facilissimo mettere in piedi tutto questo video. Comunque Lynn nasce il 20 novembre 1963. Vive gran parte della sua vita nella città di Buffalo, nello stato di New York. Sul suo passato sappiamo davvero poco ma le informazioni che sono state divulgate possono aiutarci a comprendere meglio che tipo di donna sia. All'età di 15 anni, quindi ancora una ragazzina, rimane incinta. E in quel periodo è ovviamente ancora una studentessa. Quando compie 16 anni nel 1979, mette al mondo la sua primogenita, Cristaline Girard. Ad un certo punto le vite di Lynn e Cristaline cambiano radicalmente. Perché un uomo entra nelle loro vite. Un uomo di nome Raymond Gerard. Gerard. Non so come si pronunci. Credo Gerard. Comunque Raymond adotta Cristaline e si crea così un piccolo nucleo familiare. Ma nonostante questo, sono ben lontani da avere una condizione sana e stabile. Lynn nel frattempo non è chiaro se avesse lasciato la scuola o meno, ma comincia a perdersi, diciamo. La sua vita subisce un tracollo e diventa, possiamo dire, promiscua. Beve in continuazione, lavora saltuariamente come barista in un locale di famiglia e spesso gira tra i locali in cerca di divertimento. Anche con altri uomini. Ma attenzione, Lynn sembra sapere che quello che sta facendo non è sano. Sa che facendo così, tutto nella sua vita si sarebbe sgretolato. Ma forse in quel momento non sa cos'altro fare. Quella è la sua realtà. Perciò è difficile uscirne. Presto in famiglia si aggiunge anche un altro bambino. Il piccolo Edward. La situazione però non è affatto delle migliori. Perché anche la figlia, la piccola Crystalline, sta passando un periodo orribile. Direi anche peggiore rispetto a quello della madre. Da quel che sappiamo, Crystalline è vittima di abusi intimi da parte del patrigno Raymond. Sta passando davvero un periodo di inferno. Sua madre non è presente, ma suo patrigno Raymond lo è fin troppo. Tanto da distruggerla. Crystalline sta affrontando i suoi primi anni di crescita in maniera davvero turbolente. Anche perché è stata subito vittima della crudeltà della vita. Di un uomo soprattutto. Cresce anche fin troppo in fretta. Si prende molta cura del fratellino più piccolo, Edward. E li fa anche un po' da mamma. Dato che Lynn spesso è assente. Questa piccola grande parentesi nella vita di Crystalline e Lynn finisce quando la bambina ha sette anni. Finalmente, in un'aula di tribunale, racconta tutti gli abusi subiti dal patrigno. Raymond viene quindi arrestato e condannato a 15 anni di galera. Solo. Cioè, sono pochissimi. Se pensate a quello che ha fatto, sono davvero pochi. Comunque Lynn, intanto, sembra essersi un po' ripresa da quella vita mondana. E comincia ad interessarsi di più ai suoi figli. E in un certo senso è come se si fosse disintossicata dal suo stesso passato. Crystalline, nel mentre, cresce come una giovane adulta. E arriva all'età di 13 anni. Lei e sua madre Lynn sembrano aver recuperato un po' il rapporto. Ma ammetto che questa è più una supposizione. Perché non sappiamo tutti i dettagli della relazione madre-figlia. Specialmente dopo la faccenda con Raymond. Il punto è che Lynn, ora, ha circa 30 anni. È una mamma single e vive in maniera, possiamo dire, normale. Sia in casa che a lavoro. Eppure, ancora una volta, tutto si stravolge. E sempre a causa di un uomo con cui Lynn si sta frequentando. Preparatevi a piangere, io ve lo dico. Questo ennesimo individuo che si introduce nella famiglia si chiama Dennis Donoway. Dono-you. Non so come si pronunci. E su questo Dennis ci sarebbe tanto da dire. Ma voglio procedere con ordine. Seguiamo il percorso di vita di Lynn. E immedesimiamoci in lei. Guardiamo questa storia dal suo punto di vista. Voglio che entriate a far parte della famiglia proprio con i suoi occhi. Da qualche tempo Lynn ha iniziato ad uscire con questo Dennis. E per quanto le cose inizialmente andassero bene, lentamente ha cominciato a mostrare un lato davvero problematico. In un certo senso è come se stesse cercando di riportare Lynn alla sua vecchia vita. Quella fatta di promiscuità e alcol. Ma in realtà non è solo questo. Dennis si rivela un uomo davvero pericoloso. Non solo per Lynn. Lynn è controllante e anche molto prepotente. Ma per quanto problematica, la relazione tra lui e Lynn continua ad andare avanti. Non vi nascondo però che la situazione sta diventando molto, molto tesa. Questo perché il 13 febbraio del 93 Lynn e Dennis vanno insieme ad una sorta di ricevimento per un matrimonio. La tensione tra i due quella sera è palpabile. Ma cercano di mascherarla con i bicchieri di vino che entrambi continuano a bere. A quel ricevimento, a quanto pare, si danno alla pazza gioia, un po' come ai brutti tempi in cui Lynn festeggiava tra i locali. Una sola fonte specifica che Lynn e Dennis quel giorno fanno anche uso di sostanze, ma non sembra essere confermato al 100%. È comunque sicuro che i due passano una serata tutto sommato, allegra, diciamo così. Ma questo solo fino a un certo punto. Forse ancora più accesi dall'alcol, cominciano a parlare animatamente. E si capisce che sono davvero incazzati. Lo facevano spesso in quel periodo, spesso litigavano anche davanti a tutti. Ma quella festa danno davvero il meglio di loro e tornano a casa infuriati. A quanto pare, la discussione è nata perché Lynn ha scoperto che Dennis, senza dire niente, aveva ingaggiato un uomo praticamente per spiarla. Uno che la controllasse ad ogni suo spostamento. Quando l'ha scoperto, giustamente, Lynn è andata su tutte le furie. Ha finalmente capito che anche quella relazione era da buttare. E ancora una volta avrebbe dovuto lasciare un uomo che si era rivelato a dir poco tossico per la sua vita. Quell'ennesima batosta porta la donna ad essere furiosa e disperata oltre ogni limite. Una volta tornati a casa quella sera, i due continuano a litigare ancora e ancora. Sembrava che quella discussione non finisse mai. Ma passa qualche tempo e dopo quell'ennesima litigata, finalmente si separano. Prendono strade diverse. Non sappiamo dove sia andato Dennis, ma sappiamo che Lynn è andata a rifugiarsi in un altro locale, annegando i suoi problemi nell'alcol ancora una volta. Questa volta però posso quasi capirla perché si è resa conto di aver praticamente fallito troppe volte nella sua vita. Più che altro non sapeva come dire ai suoi figli che ancora una volta dovevano stare senza un padre. È evidente che Lynn cercasse un uomo nella sua vita, molto probabilmente anche per i suoi figli. E forse si vergogna di essere di nuovo lì, in quel locale, a soddisfare quel vizio che tanto le aveva fatto del male in passato. Vuole bene ai suoi figli, vuole essere migliore di così. Forse spera che di lì in poi le cose sarebbero migliorate, anche solo un passo alla volta. Quando lascia quel locale è ormai sera tardi e non vede l'ora che quel maledetto giorno finisca. Probabilmente durante il tragitto pensa a cosa dire a Kristalyn e ad Edward. Forse pensa anche a come dire definitivamente addio a Dennis. O forse sotto sotto spera di perdonarlo perché crede di poterlo cambiare. Il fatto è che ogni cosa pensata o fatta quella sera non avrà più nessun senso. Perché una volta tornata a casa, Lynn scopre che la sua Kristalyn è stata uccisa. Tante cose brutte sono accadute nella vita di Lynn. Ma questo? Questo era troppo. Si dice che sopravvivere ad un figlio sia il dolore emotivo più grande che una persona possa provare. E adesso anche Lynn deve affrontarlo. Non poteva minimamente immaginare di essere destinata anche a questo. La sua Kristalyn, la povera ragazza cresciuta nel dolore e troppo in fretta, la ragazza che a sette anni ha testimoniato contro il suo patrigno peffilo, ora giace a pancia in su, su suo letto. Nuda e priva di vita. Vengono chiamate le forze dell'ordine e il giorno successivo, il 14 febbraio, si dà il via alle indagini. Lynn è profondamente devastata da quello che è successo. Racconta tutto quanto agli agenti. Sospetta, e lo dice apertamente, del suo compagno attuale, Dennis. Racconta della scoperta che aveva fatto, del suo comportamento problematico. E gli investigatori prendono nota di questa cosa come prendono nota sull'autopsia fatta alla vittima, deceduta per strangolamento. All'interno dell'organismo di Kristalyn vengono trovate tracce di droga, ma in una quantità minuscola. Confermano più volte che la quantità di quella sostanza nel suo corpo non sarebbe mai stata in grado di ucciderla. Il che potrebbe significare che il colpevole, la prima drogata, ha poi abusato di lei perché ci sono gli indizi che lo provano. Poi le ha messo le mani attorno al collo e ha posto fine alla sua vita. Allora la polizia si muove sulla pista suggerita dalla stessa Lynn, ovvero quella che vedrebbe Dennis come potenziale colpevole. Quella sera, dopo la litigata, era uscito di casa, ma forse poi ha fatto dietro front ed è tornato per uccidere la povera Kristalyn. Che ovviamente non c'entrava nulla. Poverina questa bambina, cazzo. Questa ricostruzione degli eventi risulta verosimile, ma è qui che la storia diventa molto strana. Succedono sostanzialmente due cose assurde. La prima, la più importante, è la testimonianza di un vicino di casa di Lynn. Un uomo di nome Wayne Hudson. Questa persona ha alle spalle un passato criminale davvero molto pesante, ma nonostante questo dà una testimonianza decisamente scioccante. Dice che Lynn gli ha rivelato di essere stata lei ad uccidere sua figlia. Come, quando e soprattutto il perché, non lo sappiamo. E in realtà non lo sapremo mai. Gli investigatori del tempo prendono così seriamente questa testimonianza che la utilizzeranno contro la stessa Lynn. E se già vi sembra assurdo, la seconda cosa che è successa e che ha messo Lynn in cattiva luce, è lo stesso Dennis. L'uomo era stato arrestato diversi giorni dopo il delitto di Crystal Lynn, ma dopo aver superato un test del poligrafo, era stato rilasciato. Questo perché ha patteggiato e ha testimoniato contro la sua ex, in cambio della piena immunità a vita. Capite? Nessuno da questo momento in poi può toccarlo legalmente su questa faccenda. Lui si schiera con l'affazione, se così possiamo dire, di chi vede Lynn come la vera ed unica colpevole. Quello che penso io, quindi prendete queste parole con le pinze, è che è stato completamente ignorato il movente. Perché mai Lynn avrebbe dovuto togliere la vita a sua figlia? Sembra, e ripeto, sono pareri personali che le autorità abbiano usato il passato tormentato della donna, quasi come una scusa. Della serie, vabbè, erano a poco di buono, perché stupirsi di un delitto? Però la storia non è avvenuta chissà quanto tempo fa. Siamo negli anni 90, precisamente nel 93. Cioè, quell'anno uscivano film come Schindler's List e Jurassic Park. In realtà, sì, è passato del tempo, ma non è un caso degli anni 50 dove alcune leggi erano un po' arbitrarie. Viene proprio da chiedersi come cavolo è possibile che una sola testimonianza abbia portato una madre al processo contro di lei. Evidentemente per gli addetti ai lavori di quel tempo è bastato. Una sola testimonianza ha fatto sì che i pregiudizi e la mente chiusa prendessero il sopravvento. Lynn de Jacques è stata arrestata ufficialmente il 10 dicembre 1993. E' accusata di omicidio di secondo grado e omicidio colposo. E' stata processata al tribunale della contea di Eerie nell'aprile del 94 e non ha presentato testimoni. Il vicino Wayne confessa a suo sfavore, eppure l'ex fidanzato Dennis. Evidentemente Lynn non ha un buon avvocato perché tutto e tutti sono contro di lei. Non immagino come si sia sentita in quel momento. Era già devastata per i motivi di cui abbiamo parlato prima. E ora la sua intera esistenza le si sta sgretolando davanti agli occhi. Dirà in seguito che la sua comunità ha provato a sostenerla e starle vicino. In quel periodo non tutti le volevano così male da ditarla subito come colpevole. Ma la legge sì. Quei processi per quanto assurdi vanno avanti. Dennis ha l'immunità. Ma secondo Lynn è evidente che in realtà sia lui il colpevole. Ma non può provarlo. Né esserne sicura al 100%. Però dato il suo inquietante comportamento, forse questo Dennis nascondeva davvero qualcosa di marcio. Ma niente, tutto inutile. La testimonianza di Wayne viene usata come unica prova. Il che ragazzi, è davvero assurdo. Il 20 aprile del 94, Lynn De Jacques Peters è stata condannata per omicidio di secondo grado. E il 7 giugno dello stesso anno è stata condannata a 25 anni di carcere. A quanto pare durante il processo Lynn era anche incinta di due gemelli. Perché prima del processo si era fidanzata con un certo Chuck Peters. Da cui appunto prenderà il cognome. Partorirà i nuovi figli dietro le sbarre. Ma le verranno tolti praticamente subito. Ad ogni modo in quel periodo turbolento si sposa con questo Chuck. E finalmente lui era davvero un uomo per bene. Però cavolo, ormai era troppo tardi. Quindi non so voi, ma non notate un'amarissima ironia in tutto questo? Cioè, ricapitoliamo. Lynn ha sempre cercato uomini e divertimento. Poi è stata una ragazza madre con un compagno pezzofilo. Ma ha cercato di riprendersi. E si è beccata quel Dennis. Poi è morta proprio quella figlia che tanto aveva sofferto. E ora tutti le stavano remando contro. Quando poi trova finalmente l'uomo giusto con cui fa due figli, non può né vederli, né accudirli. Il tutto condito con una terribile dose di evidente mala giustizia. Sembra davvero che qualcuno stesse giocando ad Adi con la sua vita. Come se stesse programmando i suoi momenti e la stesse portando a un punto di non ritorno. Perché adesso Lynn, dietro le sbarre, non vede un futuro. Non vede una possibilità di ottenere giustizia. Anzi, viene proprio rivelato che il motivo per cui non può vedere i suoi figli è perché continua a professarsi innocente. Cioè, oltre al danno, la beffa. Lynn quindi perde peso e diventa all'ombra di se stessa. Passa 13 anni e mezzo, quasi 14, con l'unica certezza di essere finita. Di non avere più niente. Di essere stata solo vittima del destino e di aver ormai perso tutto. Perché le avevano tolto tutto. Dignità, anima, rapporti, ogni cosa. Eppure, accade una lenta ma importante svolta nel suo caso. È proprio vero che la speranza è l'ultima a morire. Nel 2007, il detective Dennis Delano viene trasferito alla divisione omicidi della città di Buffalo. Questo signor Delano entra a capofitto in questa storia. Ed è grazie a lui che, finalmente, sappiamo come sono andate veramente le cose. Lui e la sua squadra sono stati chiamati a riesumare vecchi casi risolti. E in un modo o nell'altro, nella sua scrivania, è passato il caso di Linde Jacques. Lui, come tutti noi, credo, si è fatto molte domande. E ha capito che questo caso, per quanto risolto, aveva tante stranezze, per usare un termine gentile. Tanto per cominciare, nota delle somiglianze con vari altri casi risolti. E scopre così un vaso di Pandora ancora più assurdo. Questa parte di video sarà un po' come una matriosca. Siete pronti? Innanzitutto, la squadra del detective Delano riesamina il caso irrisolto di una certa Joan Jambra. Si tratta di una donna assassinata nel settembre del 93. E la scena del crimine era raccapricciante. Accasciata sopra il corpo senza vita di Joan, c'era la sua stessa figlia di 11 anni. La piccola era stata strangolata e lasciata lì in fin di vita. Viene anche resumato un altro caso irrisolto. L'omicidio di Carol Reed, del 75. Questa Carol era stata trovata senza vita, nuda e morta per strangolamento. Esattamente come la vittima precedente. Ed esattamente come la figlia di Lynn, Crystal Lynn. Notando queste somiglianze, ne spunta un'altra che lascia pochi dubbi. Tutti questi delitti, quindi questi due riesumati e quello della figlia di Lynn, sono accumunati da un unico uomo. Un uomo che abbiamo già visto e conosciuto, Dennis Donoway. Dennis e la vittima Carol Reed vivevano nello stesso condominio al momento della sua morte. E Joan Jambra, l'altra vittima, aveva frequentato casualmente Dennis prima di rompere con lui. E questo poco prima del suo omicidio. Capite quindi che è tutto decisamente sospetto. Solo nel 2007, quindi, si scopre che Dennis è collegato ad altri due casi di omicidio. Guarda caso, lui è sempre stato lì. Ha sempre avuto un collegamento con quelle vittime. Ma nella nostra storia, lui era collegato a Lynn, non a Crystal Lynn. Ma se fosse stato comunque lui a farla fuori? Se fosse in realtà un tipo davvero pericoloso? Lentamente sembra prendere piede l'ipotesi che Dennis sia un serial killer. Ma ancora non abbiamo prove per confermarlo al 100%. E questa volta il detective Delano vuole vederci chiaro. Vuole avere delle reali prove contro di lui. Sempre nel 2007, queste prove non tardano ad arrivare. Visti i nuovi sospetti, vengono svolte delle nuove analisi del DNA. Come avete visto dallo sponsor, con le moderne tecnologie, un test del DNA può rivelare tantissime informazioni. E quindi può ribaltare casi vecchi e dare giustizia. Infatti vengono trovate delle tracce sul corpo di Crystal Lynn. Si tratta di un DNA sconosciuto, che non appartiene a sua madre Lynn. E qui i nodi vengono al pettine. Si scopre che quel DNA era di Dennis. Le sue tracce sembrano essere presenti anche sulle scene del crimine. E da questo momento succede un casino. Vengono rifatte tutte le analisi del caso. E si scopre che la causa della morte di Crystal Lynn, ovvero lo strangolamento, era errata. Ricordate che erano state rilevate piccolissime quantità di droga nel suo organismo. Ecco, pare che in realtà non fossero affatto piccole. In sostanza tutto quello che vi ho raccontato finora è praticamente falso. A questo punto è quasi inutile chiedersi perché fosse tutto sbagliato. Ora bisogna salvare Lynn e dare giustizia a Crystal Lynn. Bisogna condannare il suo reale omicida. Ma c'è un grosso problema. Ricordate il patto che aveva fatto Dennis ai tempi? Aveva testimoniato Contro Lynn in cambio di piena immunità a vita. Ecco, questa è una condizione che non si può superare. È un muro impossibile da distruggere. Tutto il caso Contro Lynn era palesemente sbagliato. Ma ciò non toglie l'immunità a quel Dennis. Sinceramente la trovo una cosa poco sensata. Ma comunque gli investigatori non si perdono d'animo. Quindi nel settembre del 2007 Dennis Donoway viene arrestato per l'omicidio di Joan Jambra. Una delle vittime dei casi riesumati. Ecco, erano passati 14 anni dalla sua morte. Nel maggio del 2008 la giuria in sole 6 ore lo condanna a colpevole per l'omicidio di Joan. E la sua condanna è dai 25 anni di carcere al carcere a vita. Quindi ecco che un po' di giustizia arriva. Perché questo assassino va dietro le sbarre. Per un crimine che comunque ha commesso. La strategia è quella di incriminarlo per un altro omicidio. In modo tale da tenerlo dietro le sbarre. E dare comunque un minimo di giustizia. In questo modo Lynn ha sentito ricrescere dentro di lei un'immensa speranza. Non riusciva a crederci. Era in cella dagli anni 90. Ma finalmente poteva riassaporare la libertà. C'è un video commovente di Lynn che viene scarcerata. E fa davvero riflettere. Lynn non può credere a quello che le sta succedendo. Anche i giornalisti sono curiosi di vederla dopo tanti anni. E vederla lì libera e ufficialmente innocente. Lynn racconta di aver perso anni e anni in cui il mondo è andato avanti senza di lei. Per esempio non ha la più pallida idea di come si usi un computer. O di cosa sia un cellulare. E non vede l'ora di imparare tutto quanto. È comunque profondamente amareggiata per quello che è successo. Da adesso in poi vuole su serio. Nella maniera più assoluta riprendere tra le mani la sua vita. Sente che lo stato di New York le ha fatto subire fin troppe ingiustizie senza senso. E pretende un risarcimento per tutti gli anni che ha passato in prigione. Più che lecito direi. Nel novembre 2012, Lynn Dejac, che in seguito ha cambiato nome in Lynn Peters, risolve una richiesta di risarcimento contro lo stato di New York per 2,6 milioni di dollari. Questa è la somma precisa che ottiene. Sono un bel po' di soldi, ma nessuna cifra avrebbe restituito il tempo perso. Anzi, il tempo che le hanno rubato. I suoi gemelli non l'avevano mai vista e ora che sono ragazzini si ritrovano davanti una donna che è loro madre, ma che è stata in carcere per quasi 14 anni. Cioè, non la conoscono. Insomma, non è proprio una bella situazione. Ci vuole tempo per tornare alla normalità. Intanto ottiene risarcimento e si prepara a vivere tutto il tempo che le rimane. A quanto pare Lynn è stata la prima donna ad essere stata scarcerata con l'aiuto del test del DNA, ma non è chiaro se è stata la prima donna al mondo negli Stati Uniti oppure solo la prima dello stato di New York. Comunque, il suo nome è un importante pezzo di storia, sia per la medicina forense, sia per la giustizia legale. Tutto sarebbe andato per il verso giusto, ma il destino ha tirato ancora una volta ai dadi. Nel 2013, a Lynn de Jacques Peters, viene diagnosticato un cancro. Solo un anno prima aveva ottenuto il risarcimento statale. Un anno prima tutto finalmente le stava sorridendo. Vedeva un nuovo orizzonte e non vedeva l'ora di ricominciare la sua vita. Ma ecco che ancora, l'ennesima volta, la vita le ha mentito. Il suo cancro non guarisce. Lei fa tutte le cure necessarie, ma non servono. Perché appena un anno dopo la diagnosi, Lynn ci lascia per sempre. Perde la vita il 18 giugno 2014. Non so voi ragazzi, ma questa parte della storia mi ha spiazzato. Non vi nego che ho provato un senso di dispiacere immenso e spero di avervi fatto capire come è stata la vita di questa donna. Una donna che come tutti ha fatto i suoi sbagli, ma che è stata ripagata con una crudeltà assurda. Prima la condanna dal giudice, e ora la condanna dalla vita stessa. Cioè, non ha potuto godersi la vita neanche un attimo. Quindi ogni giorno ricordate che abbiamo un grande dono. Siamo vivi. Siamo liberi. Siamo qui e dobbiamo vivere. Questa storia mi ha fatto sentire estremamente grato delle piccole cose. Mi ha fatto capire che non tutto è dovuto e che finché siamo in questa posizione, ce la dobbiamo godere. Senza se e senza ma. Viviamo. Sono davvero curioso di leggere i vostri commenti, perché questo è stato davvero un video speciale per me. La storia di Lynn meritava di essere raccontata e ricordata, e ancora non capisco perché non se ne senta mai parlare. Ricordiamoci di essere grati, è davvero una cosa fondamentale. Grazie per l'attenzione. Come al solito, io spero che questo video vi sia piaciuto. Per quanto triste, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro file. Ciao! Grazie. Grazie.